fedez e garance o tie una coppia in crisi fedez e garance o tie sembrano non essere più una coppia stabile con impegni che li tengono separati tra la casa e il tour per lui e viaggi estivi e shooting per lei dopo l'ultimo weekend in puglia sembra che la coppia abbia avuto difficoltà a incontrarsi e a far combaciare i rispettivi programmi il gossip si infiamma quando si diffonde la notizia che fedez avrebbe mostrato interesse per un'altra ragazza la giovane martina trivelli ex frequentazione di stefano de martino la segnalazione arriva da dejanira marzano che attraverso le sue instagram stories mostra i liché del rapper sulle foto di martina alimentando i rumors su una possibile nuova fiamma martina trivelli la vita e la carriera della ragazza che ha attirato l'attenzione di fedez martina trivelli originaria di pescara e residente a milano è una giovane di 26 anni nata il 15 gennaio 1997 attualmente lavora nel settore commerciale dell'azienda di cosmetici filorga ed è molto popolare su instagram nonostante non sia una personalità del mondo dello spettacolo il suo profilo personale ig con il nome di smart 15 conta oltre 11.000 follower con cui condivide momenti della sua vita quotidiana e dei suoi viaggi in giro per il mondo l'interesse di fedez per martina è enfatizzato dai liché che il rapper ha messo alle foto della ragazza alimentando le voci su una possibile relazione tra i due resta da vedere se questo flirt nascente porterà a qualcosa di più serio ma i liché sospetti non passano inosservati agli occhi dei fan e dei media approfondimenti fedez e garance ottier fedez è un noto rapper e cantautore italiano nato a milano nel 1989 ha raggiunto la fama nel panorama musicale italiano grazie a hit come senza pagare e vorrei ma non posto garance ottier è una stilista e fashion influencer francese la coppia ha un figlio leone lucia nato nel 2018 la presunta crisi della coppia è diventata argomento di gossip a causa di presunti impegni che li tengono separati puglia regione dell'italia meridionale famosa per le sue splendide spiagge e città storiche è una meta turistica molto popolare sia per i turisti italiani che per quelli stranieri martina trivelli giovane originaria di pescara e residente a milano nata nel 1997 attualmente lavora nel settore commerciale dell'azienda di cosmetici filorga martina è popolare su instagram dove condivide momenti della sua vita quotidiana e dei viaggi ha attirato l'attenzione di fedez a seguito dei lichè che il rapper ha messo alle sue foto alimentando i rumors su una possibile relazione tra i due stefano de martino conosciuto ballerino conduttore e personaggio televisivo italiano è stato precedentemente legato sentimentalmente a martina trivelli dei anira marzano non è un personaggio famoso noto al di fuori di questa situazione specifica ma sembra essere colei che ha diffuso i dettagli riguardanti l'interesse di fedez per martina trivelli tramite le sue instagram stories instagram piattaforma di social media molto popolare utilizzata per condividere foto e video molte celebrità e influencer utilizzano instagram per comunicare con i propri follower e condividere momenti della loro vita lichè sospetti si riferisce ai mi piace che fedez ha messo alle foto di martina trivelli su instagram creando speculazioni su una possibile relazione tra i due i lichè su instagram sono spesso interpretati dai fan e dai media come segnali di interesse o accordo